L'ambulanza del mare Humanitas è da sabato 10 aprile ormeggiata ai pontili della Lega Navale del Porto Turistico Masuccio Salernitano. È equipaggiata con barella spinale, monitor defibrillatore, ventilatore polmonare, aspiratore di secreti, frigo per asporto, sangue ed organi. Le dichiarazioni del presidente Humanitas Roberto Schiavone di Favignana in merito a questa iniziativa. Salerno si dota dell'unica ambulanza del mare di rianimazione in Italia. Le sue caratteristiche sono la velocità, la sicurezza, l'affidabilità, dove a bordo ci sarà una squadra di operatori professionisti e medici. Tutto questo al servizio delle esigenze sanitarie di Costa d'Amalfi, fascia litoranea e Costa del Cilento. Caratteristiche tecniche della struttura il gommone RIB di 9,98 metri ospita un vano sanitario completo che garantisce lo stesso livello di confort e di funzionalità di una normale ambulanza rianimativa terrestre. L'interno dell'ambulanza invece è equipaggiata da una cellula sanitaria completa dotata di impianto di climatizzazione caldo-freddo e di un sistema di ricambio dell'aria. All'interno appositi supporti di ancoraggio rinforzati ospitano le attrezzature elettromedicali, il defibrillatore, monitor multiparametrico, ventilatore polmonare e tutti i dispositivi per l'emergenza. Materasso a depressione, stecca bende, zaini e collari cervicali, ossigeno da 7 litri con omologazione a 200 atmosfere e un aspiratore fisso completo di tutti i componenti necessari. Impianto di gas medicali dotato di tre prese ossigeno del tipo Uni ad innesto rapido e due bombole.